Pillola Insta360 di quest'oggi può sembrare una pillola semplice ma a volte può non essere scontata. Andiamo a vedere come accendere e spegnere e anche mettere in stand-by Insta360 ONE X2. Ciao, sono Max Salvato, vivo ad Abu Dhabi e dal 2017 parlo di action cam e mobilità elettrica. Tutorial, test, recensioni, vlog, questo è ciò che troverai nel mio canale. Buona visione! Bene, pillola di Insta360 deve durare massimo due minuti quindi andiamo subito a vedere come accendere, spegnere e mettere in stand-by Insta360 ONE X2. Come ormai sapete tutti Insta360 ONE X2 ha due pulsanti, un pulsante di shutter per far partire le riprese qui davanti e un pulsante per accendere e spegnere la telecamera o metterla in stand-by. Cliccando una volta la telecamera andrà ad accendersi, tenendo premuto la telecamera andrà a spegnersi e inoltre è possibile effettuare delle partenze, diciamo degli avvii veloci chiamati quick capture in modo da far partire la telecamera direttamente con una ripresa video. E per fare questo dobbiamo assicurarci che nel menu, e nel menu si entra dall'alto verso il basso, questa icona a missile sia abilitata, sia su ON. Da telecamera spenta vado a cliccare sul pulsante di ripresa, sul pulsante di shutter. E la telecamera si avvia partendo con una ripresa a 360 gradi in questo caso. Andando a interrompere la ripresa, la telecamera si spegnerà in automatico. Se andiamo a disattivare l'opzione quick capture, andando ora a cliccare sul tasto di shutter, la telecamera si accenderà ma non partirà nessuna ripresa. In questo caso per spegnerla dovremo andare comunque a tenere premuto sul lato. Bene ragazzi, spero che questo contenuto di oggi vi sia piaciuto, vi sia tornato utile. Se siete su questo video, probabilmente perché avete appena comprato una Insta360 One X2, sappiate che nel canale ci sono veramente tanti contenuti legati alle telecamere, alle action cam, Insta360 e non anche alle varie GoPro. Qua sotto in descrizione trovate tutti i vari link a ciò che in genere menziono dentro alle pillole. Ragazzi, ci vediamo sul canale, mi raccomando lasciate un bel like, fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete qualche dubbio e cercherò di rispondervi nel migliore dei modi. Iscrivetevi al canale se non l'ho già detto e ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!